Grazie a tutti. Ho ancora molto da dare, sono un ragazzo, credo molto nei valori di solidarietà popolare perché è un gruppo molto forte, siamo tutti giovani e vogliamo fare molto per questa città, riportarla a livelli di prima, di quando era viva e molto più viva di adesso. Grazie.